Buongiorno e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo un corso in miracoli. Oggi siamo alla lezione numero 39 e la gloria che ha registrato l'introduzione a questo viaggio 40 giorni fa non poteva immaginare come avrebbe fatto a creare questo spazio presente e dedicato ogni giorno nonostante e al di là di qualsiasi cosa accada durante la giornata. Non potevo pensarlo ma ho sentito questo desiderio e oggi sono qui festeggiando questa lezione 39 presente a questo momento e insieme prima di iniziare la lettura della lezione del giorno torniamo presenti a questo momento. La lettura e il lasciarsi attraversare da queste parole ha tutto un altro sapore se noi siamo qui in questo momento respirando sentendo il nostro respiro e dedicandoci completamente a questo allenamento mentale che giova a noi. È per il nostro bene tutto è per il nostro bene e se la vita ci ha aperto questo spazio ci ha offerto questo viaggio sicuramente per il nostro bene. Quindi dedichiamoci a lui se passano i pensieri e lasciamo andare. Non li rifiutiamo, non li cacciamo, li osserviamo, ci rendiamo conto che esistono e continuiamo per la nostra strada. Ora continuiamo con l'idea del giorno. Lezione numero 39 La mia santità è la mia salvezza Se la colpa è l'inferno, cos'è il suo opposto? Come il testo per il quale è stato scritto questo libro di esercizi, anche le idee usate per gli esercizi sono molto semplici, molto chiare e totalmente prive di ambiguità. Non ci interessano traguardi intellettuali o giochi logici. Stiamo trattando solo ciò che è molto ovvio, ma che non è stato visto nelle nuvole della complessità in cui tu pensi di pensare. Se la colpa è l'inferno, cos'è il suo opposto? Questo non è sicuramente difficile. L'esitazione che potrai provare nel rispondere non è dovuta all'ambiguità della domanda. Ma tu ci credi che la colpa sia l'inferno? Se lo credessi, vedresti immediatamente quanto è diretto e semplice il testo e non avresti affatto bisogno di un libro di esercizi. Nessuno ha bisogno di far pratica per ottenere ciò che è già suo. Abbiamo già detto che la tua santità è la salvezza del mondo. E per quanto riguarda la tua salvezza, non puoi dare ciò che non hai. Un salvatore deve essere salvo. Come puoi insegnare la salvezza altrimenti? Gli esercizi di oggi dovranno essere applicati a te stesso, riconoscendo che la tua salvezza è cruciale per la salvezza del mondo. Mentre applichi gli esercizi al tuo mondo, il mondo intero ne trarrà beneficio. La tua santità è la risposta a qualsiasi domanda che sia mai stata fatta, che viene posta ora o che verrà posta in futuro. La tua santità significa la fine della colpa e quindi la fine dell'inferno. La tua santità è la salvezza del mondo e la tua. Come potresti proprio tu, cui appartiene la tua santità, essere escluso? Dio non conosce la non santità. Può mai essere che egli non conosca suo figlio? Si raccomandano vivamente 5 minuti pieni per i 4 esercizi di pratica più lunghi di oggi e si incoraggiano a esercitazioni più lunghe e più frequenti. Se ti va di fare più del minimo richiesto, ti si raccomanda di fare più esercitazioni anziché esercitazioni più lunghe, nonostante si suggeriscano entrambe. Inizia le esercitazioni come al solito, ripetendo a te stesso l'idea di oggi. Poi, con gli occhi chiusi, cerca i tuoi pensieri di non amore in qualsiasi forma appaiano. Disagio, depressione, rabbia, paura, preoccupazione, attacco, insicurezza e così via. Qualunque forma assumano, sono privi di amore e pertanto fanno paura. Quindi è da essi che hai bisogno di essere salvato. Soggetti adatti per gli esercizi di oggi sono le situazioni, gli eventi o le personalità specifiche che associ a pensieri di non amore di qualsiasi tipo. È fondamentale per la tua salvezza che tu li veda in modo differente ed è la tua benedizione su di essi che ti salverà e ti darà la visione. Lentamente, senza una selezione cosciente e senza particolare enfasi su nessuno in particolare, cerca nella tua mente ogni pensiero che si interpone tra te e la tua salvezza. Applica l'idea di oggi a ciascuno di essi in questo modo. Un esempio potrebbe essere Potrei trovare queste esercitazioni più facili se tra l'una e l'altra farai numerose esercitazioni brevi durante le quali ripeterai l'idea di oggi a te stesso lentamente alcune volte. Ti potrà anche essere d'aiuto includere alcuni brevi intervalli nei quali ti limiterai a rilassarti e sembrerai non pensare a nulla. Mantenere la concentrazione è molto difficile all'inizio. Diventerà molto più facile man mano che la tua mente diventerà più disciplinata e meno inclina a distrazioni. Nel frattempo, sentiti libero di introdurre delle varianti nelle esercitazioni in qualsiasi forma ti vada di farlo. Non cambiare però l'idea in sé mentre cambi il metodo di applicazione. In qualsiasi modo tu scelga di usarla, l'idea dovrà essere espressa in modo che il suo significato sia il fatto che la tua santità è la tua salvezza. Termina ogni esercitazione ripetendo ancora una volta l'idea nella sua forma originale e aggiungendo se la colpa è l'inferno cosa è il suo opposto? Nelle applicazioni più brevi che dovranno essere fatte tre o quattro volte all'ora o anche di più se è possibile puoi farti questa domanda ripetere l'idea di oggi e preferibilmente entrambe le cose. Se sorgono tentazioni una forma particolarmente utile dell'idea è la mia santità è la mia salvezza da questo. La registrazione di oggi ha avuto qualche interruzione adesso vorrei fare qualche approfondimento insieme ma la mia voce sarà più bassa perché ho le une che si è addormentato tra le mie braccia. però sento quanto la lezione di oggi ci dia nuovamente il potere. il testo oggi ci ricorda quanto sia importante pensare prima a noi ti ricorda che mentre applichi questi esercizi al tuo mondo il mondo intero ne trarrà beneficio ma prima devi applicarli al tuo mondo se tu riconosci la tua salvezza allora riconosci anche la salvezza del mondo se tu riconosci la tua santità allora riconosci anche la santità di tutto ciò che incontri se tu credi in te stesso se tu hai fiducia in te stesso se tu hai cura di te stesso allora potrai farlo con gli altri e questo non è egoismo questo è un dono che fai ogni tanto la tua mente ti potrà dire che non lo stai facendo bene ma ricorda che il testo non dequalifica mai ciò che stai facendo anzi sempre dà potere al viaggio che stai facendo alla dedizione che ci stai mettendo solamente ti esorta a praticare ti esorta a praticare perché tu possa avere i benefici solo questo ma ricorda che se un giorno non viene come tu vorresti o non ricordi tutte le pratiche non accade nulla non rifare la lezione non fermarti continua non lasciare che queste resistenze ti permettano di fermarti in questo cammino perché un pensiero che ti dice vabbè lo rifaccio domani è solo una scusa della tua mente fallo ora nel momento in cui ti sei ricordato e poi prosegui domani prosegui e ricorda che non devi lottare non devi lottare per capire non devi lottare per vedere non devi lottare per far accadere miracoli e non devi confrontare nulla devi solo benedire 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 la consapevolezza di quella che è la verità devi solo ascoltare e renderti conto che questa frase ti fa sentire calma la mia santità è la mia salvezza e se vogliamo approfondire un po' di più cos'è la salvezza immagina un gioco un gioco da tavolo tu sai che stai giocando e hai una carta una carta ti fa vincere una carta ti fa perdere però tu non sei la carta e non sei il giocatore non sei quello che è in gioco tu sei la persona che sta giocando ecco che la salvezza è sapere che questo è un gioco è sapere che non sei identificato con il giocatore né con la carta la salvezza è sapere che qualsiasi cosa succeda niente intaccherà la persona che sta giocando questa è la salvezza è la differenza tra l'io giocatore e l'io persona presenza colui che sa che sta giocando ti invito a praticare dopo questo audio o nel primo momento che hai disponibile e ripetere a te stesso i miei pensieri di non amore per questa persona questa situazione qualsiasi cosa ti arrivi ecco questo mi sta mantenendo all'inferno la mia santità è la mia salvezza non c'è colpa e non c'è inferno e quindi non c'è niente da salvare in realtà perché la salvezza è solo un'idea che va bene per lui che tu non sei perché tu sei già in salvo non sei mai stato in pericolo non sei mai stato minacciato la salvezza è già tua esci dall'inferno perché non c'è alcun inferno l'inferno è il posto in cui ti metti quando credi ai tuoi pensieri quando credi di credere quello che pensi e credi di pensare quello che pensi chiudo qui questo bellissimo momento insieme e ti ricordo che trovi il testo nel profilo Instagram e mi ritrovi qui domani con la lezione numero 40 continua buona giornata ciao